Il piacere di avere la tua casa al lago, l'emozione del benessere a 45 minuti da Milano e a 15 minuti da Bergamo. In piccola palazzina di sole 6 unità abitative circondata dalle verdi colline della Valcavallina e a pochi minuti dal Lago d'Endine. Vi proponiamo appartamenti al primo piano con ingressi indipendenti, ampi loggiati, giardini di proprietà esclusiva e villette di testa con piscina privata. Il nuovo complesso residenziale è caratterizzato da finiture di pregio, cura e attenzione ai dettagli, armonia della struttura architettonica e soprattutto dall'utilizzo di materiali di primissima qualità. Alcuni esempi di finiture? Cappotto esterno, serramenti in legno con doppio vetro, videocitofono, antenna satellitare, sanitari sospesi, cassetta di sicurezza, riscaldamento a pavimento e impianto antifurto. La cornice delle colline che si specchiano nel lago, la tranquillità e la bellezza del paesaggio che si può ammirare dalla residenza all'Oleandro fanno da sfondo la vostra nuova casa. Esempio di alta qualità e garanzia di investimento per il futuro.